Ancora numeri positivi per il mattatoio comunale gestito dalla Cortona Sviluppo da 7 anni. Nel 2011 sono proseguiti lavori di ammodernamento con un intervento di 170.000 euro erogati da parte del Comune di Cortona e della Regione Toscana che sono serviti per migliorare gli impianti di depurazione, il rifacimento di una cella dove vengono conservate e frollate le carni e vari interventi di manutenzione. Tutti i capi lavorati nel mattatoio cortonese provengono dall'area della Valdichiana, sia a Retina che Senese e dall'Umbria. Tra i bovini lavorati il 35% è di razza chianina. Il mattatoio, sottolinea Viti della Cortona Sviluppo, da tempo applica tutte le norme nazionali ed europee sulla tracciabilità del prodotto bovino. Questo controllo di tracciabilità il mattatoio lo effetto anche per i suini, anche se non richiesto dalla legge, ma si pensa che questo rappresenta un elemento di sicurezza e trasparenza non solo verso i clienti ma anche per i consumatori. I risultati si confermano positivi anche sotto il profilo strettamente economico con l'azienda inutile. Oggi i lavoratori fissi sono otto oltre ai due veterinari della ASL che quotidianamente lavorano presso il mattatoio verificando continuamente il percorso di lavorazione e la qualità delle carni e ai trasportatori privati che lavorano esclusivamente per la struttura.